La storia d'amore Da John Snow e Ygritte a Keith Harington e Rose Leslie, la storia d'amore Finalmente Keith Harington ha trovato la sua rosa e ha deciso di metterle un anello al dito. La splendida Rose Leslie è al settimo cielo e i due, finalmente, si sono fidanzati ufficialmente con un romantico annuncio vecchio stile sul quotidiano The Times. Keith Harington e Rose Leslie, tutto è cominciato cinque anni fa. Dopo un appassionante storia d'amore sotto la neve tra John Snow e Ygritte nella serie televisiva Il Trono di Spade, i due hanno portato la loro relazione su un nuovo livello fidanzandosi nel mondo reale. E che carini! Lui, e Rose si sono conosciuti per la prima volta oltre il confine, ma anche su un set. Mentre sul copione c'era scritto che John e Ygritte avrebbero dovuto innamorarsi, loro hanno fatto di questa indicazione una vera e propria missione. Si sono guardati, si sono parlati e si sono piaciuti oltre ogni immaginazione. E magari non saprà niente, John Snow, ma questa cosa la sa per certo, Rose Leslie è la donna della sua vita. Si sono incontrati per la prima volta nel 2011, e si sono piaciuti, ma non hanno mai confermato la loro storia d'amore prima di qualche anno fa. Voci di corridoio sostenevano anche che, per un periodo, Keith e Rose si sono presi una pausa, ma che l'amore li aveva subito dopo riconciliati. Keith Arrington è un romanticone. Nel corso di un'intervista per Gogo Italia, Keith Arrington racconta che a farli innamorare davvero sono state le incantevoli location islandesi. Mi sono innamorato del luogo, dell'atmosfera e alla fine mi sono innamorato e basta, aveva raccontato con una luce speciale negli occhi. E sì, l'Islanda deve essere davvero un luogo incantevole dove innamorarsi. Purtroppo per noi, i due non si sono mai davvero confidati ai media sui dettagli della loro relazione, ma sappiamo che Keith e Rose sono una coppia perfetta. Igritte è l'unica donna al mondo per John, spiegava Keith Arrington allus weekly prima della settima stagione del Trono di Spade. E nonostante scherzasse, sappiamo che tutto sommato stava dicendo la verità, sempre. Non ci sarà mai nessun'altra. Un dichiarazione d'amore indiretta ma, ora che sappiamo tutti i dettagli, ancora più dolce. Keith Arrington e Rose Leslie hanno fatto il loro debutto pubblico all'inizio del 2016, quando sono stati pizzicati mano nella mano al ristorante. Quando però i giornali provano ad immischiarsi un po', la risposta di Keith è sempre la stessa, non si tratta solo della mia relazione, è tanto la mia quanto la sua, e non posso parlare che per me stesso. Ma sì, al momento siamo molto, molto, molto felici. E questo è tutto quello che riuscirete a scucirmi. Ora, con l'annuncio in grande stile sul quotidiano, i due ufficializzano il loro fidanzamento e aprono le danze verso tutte le scommesse del caso, quando si sposeranno? Dove? E che vestito indosserà Rose? Ciao!